Il Parlamento europeo e il processo di integrazione europea è il tema dell'incontro tra l'europarlamentare Catiuscia Marini e gli studenti di Monte Castrilli. Qual è l'importanza e il significato di questo momento soprattutto per i giovani? Sì, è un impegno che mi sono presa al momento anche dell'insediamento nel Parlamento europeo di partecipare ad incontri di questo tipo con le scuole, gli studenti universitari, con le scuole della nostra regione e anche delle regioni limitrofe. Qui a Monte Castrilli, su invito del dirigente scolastico e degli insegnanti, un incontro con gli studenti delle scuole medie provando a raccontare l'Unione europea e in particolare il Parlamento europeo come assemblea elettiva che rappresenta i cittadini di tutti e 27 Paesi membri. Quello che noi facciamo, qual è il ruolo e la funzione anche delle istituzioni europee, come giovani di questa età, quindi giovanissimi, possono vivere il processo di integrazione europea, che cosa significa per loro e per noi la cittadinanza europea e parlare soprattutto alle giovani generazioni che saranno pienamente, più di quelle passate, a pieno titolo, cittadini dell'Europa. Riteniamo sia fondamentale per i ragazzi conoscere quelle che sono le istituzioni che li rappresentano sia a livello locale sia ai massimi livelli, come in questo caso quando parliamo di Unione europea ovviamente. Quindi noi faremo di tutto anche in futuro per cercare di incentivare questo tipo di incontri e per quanto ci riguarda cercheremo di mettere i ragazzi nella condizione di usufruire al meglio del nostro supporto per quanto riguarda questo processo di indiramente o di integrazione. Siamo impegnati da tempo sul fronte dell'educazione civica e dell'educazione alla cittadinanza, come si suol dire oggi. È un incontro importante anche perché noi cerchiamo di costruire appunto l'uomo e il cittadino, che oggi non è più un cittadino qualsiasi ma è appunto un cittadino europeo. Quindi niente di meglio che avere una testimonianza dalla viva voce di una delle protagoniste della possibile integrazione europea per educare questi ragazzi a una migliore attenzione all'Europa. Una iniziativa importante dell'Istituto Comprensivo e dei Comuni proprio per consolidare questa idea di Europa anche nei ragazzi in età scolare è assolutamente importante. L'Europa è un'opportunità eccezionale per i paesi che ne fanno parte, per tutti i cittadini e quindi sviluppare questa idea di Europa proprio per costruire il cittadino europeo. L'Europa è un'opportunità eccezionale per il cittadino europeo.